ciao a tutti e benvenuti sul mio canale questa settimana topolino tocca un traguardo significativo perché festeggia il numero 3600 traguardo importante che viene ricordato da questa bellissima cover di andrea freccero colorata da mario perrotta che ci mostra topolino elegantemente vestito con un cilindro e un frac che saluta e accanto a lui questa questa bandiera queste effigie con la scritta 3600 bellissimo lo sfondo giallo così forte che dà un effetto fluo alla luce non all'ombra non al buio e anche il contorno del 3600 con questo blu che che diciamo tende a sfumare verso il basso e significa che che impreziosisce il tutto copertina molto bella molto valida e che secondo me omaggi in maniera pronta questo evento in quarta di copertina troviamo un'altra cover e quindi si capovolge l'albo in questo caso il disegno e opera di noel van horn con i colori giorgio vallorani che riprendono epic mickey una saga diciamo basata sul videogioco in cui viene coinvolto anche il coniglio osvaldo creatura di walt disney precedente a topolino perché nel 1927 anche questa è una cover molto bella mi piace e poi troveremo all'interno anche una cover di una variante e ad opere corrono massantuono ma ci arriveremo il chiare che tira a paperopoli ci ricordo un dissidio tra virgolette che a paperino sul fatto che alla sua età giocare non sia di nessuna utilità ma lo fa lo stesso poi la tombola di paperino per i 90 anni disponibile con sovrapprezzo in questo numero nel prossimo e poi l'articolo libertani che ritorna a questo diciamo 3600 che festeggia brevemente ma su cui ribadisce quanto detto la settimana scorsa ossia che i numeri centenari non devono essere migliori di quelli precedenti e quelli successivi perché questo andrebbe a inficiare sulla credibilità dell'attestato tutti devono essere belli allo stesso modo mi sembra un discorso abbastanza diciamo in cui tende a giustificare una scelta territoriale di non voler esaltare particolarmente i numeri centenari ora lo capisco sul 3600 che ci sta un bel richiamo in cover come questo è stato per esempio col 1800 e poi basta raramente vi sono stati celebrazioni più forti in questo genere di numeri mi ricordo per esempio il 1600 ma su quelli dei 500 dei 1000 per esempio il 3500 uscito due anni fa lì ci sarebbero potuti essere molti più festeggiamenti che non ci sono stati vedremo a questo punto nel 4000 cosa succederà e poi parla un po delle storie di quest'alba a cominciare da fantomius che ritorna con l'asso di picche poi 500 piedi va avanti la saga che supera il giro di boa e poi questa chicca la coppa dei fanfaroni di scritta da peter david disegnata un giovanissimo con la riuscerrò nel 2010 che troveremo nella nel retro cover qui nell'altra parte e poi la prossima settimana comincia una storia di luca barbie e francesco di polito il più duro dei duri ci sarà minni in versione superoistica e arriverà un natale con i fuochi d'artificio quindi ci prepariamo appunto alla fine dell'anno cover in bianco di freccero molto bello e poi servizi e rubriche tra cui agenda della settimana ombre al presente games week la checklist giochi doppie identità in fuga per la verità vuola disneyland con topolino e natale d'abbonate e poi capovolgendo l'alba abbiamo racconti da rifiutolandia epic mickey la coppa dei fanfaroni peter david e claudio scerrole max monteduro e lito milano torna epic mickey e l'angolo elettorio mentre la parte a dell'albo le servilenti imprese di fantomius lasso di picche di gervasio zemolin e fornari parte 1 e parte 2 don't worry boom eppi operazione tamarindo di massantuono zamolin e andonova dopo però è l'onestà pruriginosa di ecchier guerrini e gettano gabriele d'aprile 500 piedi sinapsi episodio 4 di 6 di enna cesarello e irene fornari quindi basta assortimento di storie qui c'è dove eravamo rimasti di di marconucci quindi che avevano lasciato fantomius alle prese con un ladro di opere d'arte che poi era arti un suo vecchio un suo vecchio compagno di scuola e riprendiamo qua con con questa avventura in cui fantomius che sembra piuttosto annoiato addirittura riceve una una visita o meglio una una sfida da l'asso di picche l'asso di picche che è un un diciamo un ladro che che quando commette un furto lascia appunto delle carte da poche le carte francesi nel luogo in cui ha compiuto questo questo delitto e quindi sfida fantomius a rubare l'oggetto più prezioso del della di paperopoli per dimostrare chi sia il migliore tra due ladri e ovviamente fantomius accetterà e all'inizio quasi sembrerà essere stato superato da questo da questo suo avversario poi nel corso delle indagini che lo porteranno addirittura in un cinema abbandonato insieme insieme alla sua dolly troveremo la diciamo la soluzione del caso quindi lord quacket insieme a dolly troveranno la soluzione del caso e scopriranno chi è questo asso di picche cosa che poi ovviamente non mi voglio raccontare non mi voglio svelare si capirà alla fine della della seconda parte fantomius questo non ne ho spoiler chiaramente ne uscirà vincente e continua quindi questo bellissimo racconto con la sua altrettanto affascinante ambientazione prima novecentesca delle avventure delle del predecessore di paperinic come supereroe a paperopoli bellissimi anche i toni chiaroscuri molto da vintage anni venti così come i costumi le capigliature tagli di capelli come per esempio quello di dolly ve lo faccio vedere appena lo trovo un attimo che è veramente affascinante ecco per esempio qui quindi anche questa è una storia di notevolissimo livello tutte le volte che trovo qualcosa di fantomio se sono felice perché so che la storia mi piacerà agenda la settimana e poi qui comincia milan games week la checklist quindi cosa si trova disponibile chiaramente le varie graphic novel la variante di questo 3600 e altri oggetti in questa diciamo fiera di milano poi abbiamo la storia muta e in bianco e in questo caso vi sarà uno scambio di persona tra lui e diciamo un criminale a un tavolo di un ristorante perché praticamente lui ordina un hamburger con il tamarindo quindi come diciamo come vanno del tamarindo che era la parola d'ordine per per avere questa questa biglia che contiene un indirizzo preso cui recarsi e quindi ci sarà diciamo questo scontro con questo agente segreto criminale non si capisce bene cosa sia fino appunto quando chiaramente bummunghigno ne uscirà al solito incolume classica storia bummunghigno in bianco e nero e muta generalmente non mi fanno impazzire interessante il fatto che ci sia la colorazione perché effettivamente non è che sia proprio in bianco e nero e comunque anche se lo fosse in nero deve pur da qualcuno essere inserito di questo interessante poi vabbè i giochi e poi si passa a questa storia scritta da giovanni hacker autore che stimo moltissimo anche su martimistere e in questo caso credo che sia la terza prova sul topolino e anche in questo caso la supera egregiamente con i disegni francesco guerrini guerrini disegnava molte storie di un ciclo di zorro nei primi fine anni 90 secondo me tagli anni 90 con con quei testi con con una sorta di spagnolo maccheronico mi ricordo molto come non mi facessero impazzire queste storie e appunto guerrini ha questo stile comunque molto nervoso che però secondo me in questo caso specifico è proprio quello azzeccato perché paperone perché la storia parla di un marchigegno inventato ad archimede per far comportare in maniera diciamo onesta tutte le persone a cominciare dai bassotti di cui appunto paperone si vuole liberare una volta per tutte e chiede appunto ad archimede di scogitare un piano risolutivo e per questo motivo crea questa macchina che nel momento in cui tu menti o commetti qualcosa di sbagliato ti fa venire prurito e quindi il nervosismo di paperone per risolvere i suoi problemi che poi avrà anche con paperino perché combinerà dei dei guai proprio con questa macchina secondo me è ben rappresentato dai guerrini con questo stile appunto nervoso quindi secondo me ci sta è molto anni 90 e del resto lui lavorava molto in quel periodo è una buona prova anche qui giovanni hacker ha saputo individuare alcuni aspetti caratterizzanti paperone e anche qui molto stile anni 90 quindi secondo me hacker si rifà anche forse a non dico la sua infanzia ma la sua giovinezza che non so esattamente quanti anni abbia storia che ho apprezzato sicuramente poi la presenza di guerrini che non mi pare che sia così frequente sicuramente gli dà quel qualcosa in più poi abbiamo fumettando con fantomius quindi color qua che è fantomius appunto disegnate a marco gervasi e quindi qui viene presentato come si disegnano i due personaggi che poi vabbè lo stesso solo che uno è mascherato e l'altro no ovviamente riferimento alla famosa storia paperinic diabolico vendicatore intervista a gervasio quindi tutta la sua carriera quindi sempre molto interessante questa rubrica e poi abbiamo 500 piedi episodio 4 di 6 qua c'è un ottimo riassunto di marconucci che ci spiega dove siamo arrivati consiglio di leggerlo e consiglio anche di rileggere questa storia a me per primo quando sarà terminata perché adesso comincia a diventare complessa i nori vengono al pettine in questa quarta parte si svelerà molto sul passato di orazio sul perché sia stato diciamo ritrovato a casa dei suoi zii così siano questi cerchi nel grano che lui disegnava la presenza di questi esseri strani alieni addirittura la presenza di tre orazio che topolino sostiene di aver visto nel primo episodio viene svelato anche questo attraverso un racconto che i due zii di orazio i due zii campagnoli del cancer se fanno al nipote il quale piano piano ricostruisce cosa di se successo quindi in questa in questo episodio è veramente protagonista orazio quindi si svelano tantissime cose se ci siano degli alieni chi siano e per chi agiscono questi alieni nonché si comincerà a intuire qualcosa anche su sugli antagonisti ma è veramente una una storia che che è un crescendo se vi ho detto che le prime due parti mi sono piaciute molto la terza un pelino meno perché sì c'erano delle rivelazioni ma comunque sembrava un po allungata in questa questa quarta parte si va veramente avanti col botto è una saga molto interessante che ormai alle due terzi della sua realizzazione ha ancora molto da dire e che ci lascia addirittura tante domande addirittura si parla di andare in guatemala ma lo scopriremo e mi chiedo anche quanto sia una storia per il topolino perché è veramente a tratti inquietanti davvero inquietante e quindi non so quanto appunto il target sia ancora considerato infantile nella lettura del topolino questa è una storia che meriterebbe assolutamente un cartonato secondo me fino a questo momento e poi qua abbiamo la cover di natale delle 3603 disegnata da Corrano Massantuone credo anche colorata da lui ah no firmata Andrea Frecciero scusate che è che è disponibile soltanto rinnovando l'abbonamento di tre mesi o di un anno infatti ci sono state tante polemiche in giro e quindi sarà esclusiva molto limitata questa è la cover questa è il retro cover che prende lo stesso disegno in bianco e nero molto bella però come sapete a me dei cartonati non interessano delle sede cartonati ma anche delle valent non interessa quindi ne parliamo soltanto a scopo informativo chiaramente è giusto farlo capovolgiamo l'albo e abbiamo epic mickey quindi qua viene raccontato come vi fosse questo videogioco di ispirazione cioè si dice può un videogioco essere di ispirazione un fumetto sì come è successo con questo epic mickey che poi ha portato alla creazione di varie storie tra cui questa è disegnata con lo scerrone del 2010 quindi la storia di 15 anni fa ormai e che viene pubblicata per la prima volta e abbiamo questo questa questa ambientazione molto bella e anche comunque non so quanto sembra una storia del 2010 perché mi sembra molto moderna c'è appunto questa questo torneo per la coppa dei fanfaroni chi la racconta più grossa quindi chi racconta la balla o comunque l'avventura più strana più inverosimile e vissuta vincerà appunto questa coppa e la sfida sarà appunto tra orazio e oswald del coniglio oswald del coniglio che come vi dicevo è una creatura di world disney precedente a topolino l'anno precedente e che viene riscoperta in questa storia però poi da quel che ho capito interverrà anche topolino in questo racconto non so perché paperino abbia l'occhio robotico magari lo scoprirò in futuro e quindi vengono raccontate queste due avventure assolutamente inverosimili vissute da da orazio appunto e da e da oswald ma poi alla fine quello che sarà ancora più fanfarone come spesso accade è paperino storia molto breve però comunque interessante una variazione al tema interessante e poi qua si parla appunto di di barbara gruffi che con questa epic mickey che ritorna quindi questa riedizione con questo cartonato che è pubblicizzato già da varie settimane sul topolino finalmente ho capito esattamente cosa si tratta e poi l'angolo dei lettori dedicati appunto a oswald il coniglio e anche topolino e questo è il topolino della settimana il 3600 diamo un attimo diciamo due cose sulla storia sulle storie chiudiamo storia di fantomius mi è piaciuta tanto non ho ancora trovato tra tutte quelle che ho letto ormai qualcuno l'ho letta una storia che non mi sia piaciuta queste di fantomius già a cominciare dalla dall'ambientazione che risale un periodo che a me piace molto dal punto di vista storico con questi disegni e questi colori è già il top poi se aggiungiamo le storie che comunque sono sempre notevoli veramente c'è poco da lamentarsi operazione tamarindo pur essendo una storia muta di massantuono che spesso non capisco neanche sarà un mio limite in questo caso almeno compreso il senso è comunque una variazione al tema però non è qualcosa che mi fa impazzire si può però resta puriginosa storia molto anni 90 però giovanni eccera evidentemente ha questo suo stile ma ci sta mi piace io sono nostalgico in tutto il senso e guerrini secondo me è azzeccato per questo genere di storia e poi è un po che non lo vedevo che mi ricordi quindi ci sta il ritorno sinapsi qui siamo alla quarta parte di sedi di 500 piedi una parte veramente con un climax ascendente molto molto potente come 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 storia veramente una saga che potrebbe diventare la migliore che abbia mai letto vedremo come finirà e poi questa piccola avventura la coppa dei fanfaroni anche qui una variazione al tema interessante piccola storiella però diciamo ci può stare quindi a conti fatti un 3600 sicuramente degno di noto ottimo numero bellissima cover nessuna celebrazione particolare ma in questo caso ci può stare ci vediamo col prossimo video